Molte grazie. E adesso andiamo a Valsinni, dove tra qualche giorno partirà l'attività di un nuovo centro di educazione ambientale gestito dal WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. L'ha visitato per noi Luigi Di Lauro. Siamo incontrati a Colonnello, in agro di Valsinni, a poco più di 300 metri di altitudine, alle porte del Parco Nazionale del Pollino. Qui, nelle prossime settimane, inizierà l'attività di un nuovo centro di educazione ambientale gestito dal WWF, che grazie a un bando della Fondazione Conil Sud ha avviato il progetto della Fattoria dei Denotri, avendo ottenuto in affidamento la Masseria Melidoro, un antico casale costruito alla fine dell'Ottocento dal dottor Giuseppe Melidoro, medico condotto del posto, con il preciso intento di realizzare un luogo destinato alla didattica. Ma com'è nata l'idea del centro di educazione ambientale? È stata un'idea ripresa da quello che è questo lascito, il Casino Melidoro. Quindi noi ci siamo rifatti a questa idea nel 2018, quando con il bando Terre Colte l'abbiamo appunto preso in gestione. E quindi da qui vogliamo portare avanti l'idea e oggi è nato il centro di educazione ambientale, per andare a dare quelle conoscenze utili, soprattutto sul territorio, con l'obiettivo di attuare azioni più sostenibili. Più o meno simili gli obiettivi del progetto Fattoria dei Denotri. Abbiamo l'Università di Basilicata, abbiamo il WWF di Policoro, c'è il WWF di Potenza, quindi ci sono vari partner all'interno del progetto. E quindi ognuno di noi ha messo insieme le proprie professionalità e creato quello che è adesso il progetto Fattoria dei Denotri, che vedrà mettere in atto attività di educazione ambientale, turismo sostenibile, infatti si trova all'interno del sentiero del CAI, abbiamo il sentiero del CAI qua accanto, e del turismo lento di Basilicata che collega appunto la costa Marateota a quella ionica invece. Siamo in un luogo di straordinaria bellezza dal punto di vista naturalistico, ambientale, quindi merita veramente tutta l'attenzione. E tra le tante attività che si porteranno avanti qui sicuramente una merita particolare attenzione che è quella degli orti sociali. Qui si farà tanta attività didattica, si porteranno i bambini, quindi si faranno conoscere alle nuove generazioni, si farà toccare con mano soprattutto quello che è il ciclo produttivo. Ma come funzionerà il CEA di Varsinni? Prevederemo innanzitutto delle attività rivolte inizialmente alle scuole, quindi attività didattiche. Come avete visto qua abbiamo l'uliveto, l'orto, quindi partiremo soprattutto da queste attività, poi verrà messo un apiario, quindi faremo attività ad esempio con il miele, e poi quelli che sono i percorsi esperienziali, quindi con le erbe aromatiche, con la conoscenza di piante edibili. Quindi ci rifaremo a quelle che sono le tradizioni e alla riscoperta delle radici e dei sapori della tradizione.